salve d'agropalati oggi vi presento un piatto molto bilanciato non completamente dietetico ma abbastanza bilanciato quindi facciamo in modo che cominciamo a depurare mano mano ecco sono broccoli delle macchie delle coserie cucinati con delle pennette rigate ancora abbiamo messo anche un po di intuia calabrese piccante quindi molto semplice da preparare vanno sbollendati i primi broccoli poi si prepara un sughetto con olio extravergine d'oliva con un po di aglio mettiamo anche l'antuglia si fa cuocere la pasta e poi dopo di che ovviamente si mescolano insieme per un minuto dentro la padella un piatto molto interessante digeribile abbastanza nutriente giusto per questo periodo di gennaio ecco a voi tutti una buona giornata da michael expert in cura di tenere in cura di gennaio ecco a voi tutti i luci e piatti Know